e poi cosa ci troveranno le donne in un pupazzo come te ma non sono bello piaccio business business questo giro fatto i skate business business sono arrivato l'audio a 6 business business carpe e folpi sul caffè business business ne piccio una due e una tre busso il cobra tanta roba sono meglio di Raul Bova ho fatto i skate non stavo a fare i castelli piove figa mi pio il cup away vendo il caffè che non abbancai che avevo una max se c'avava anche i cavai copasso per strada piove sempre a e tosate che se lava l'assorbente temecati col mojito in spiaia ti e pomicotti in fertaia in giacca e gravata come i signori mica da salvatevo come fioi di fiori vado al casino qua melissa sarta mi parte il mio stipendio solo per dare la mancia o in mano borsa da 3000 euro non faccio più piuccino anche se sto vi sai da fumocino business business questo giro fatto i skate business sono arrivato l'audio a 6 business business carpe e folpi sul caffè business business ne piccio una due e una tre becchiamo primi su amico del bonso sono da pescare in un fosso che sbarro che non dal vigno e un grosso a potà e se casca e mi ha detto dio io sono in cerca di una ragazza seria non mi importa se si chiama valeria una roba principale insomma a casa mi annoio sempre di stare in un mortuoglio come quando vedo mio zio lavorare nel cuoio ho lavorato più o meno dove la padrona si leggeva le dita se alle medie mi offendevano e quando arrivavo a casa mi buttavo a piangere in divano alle elementari faceva botte a spencer terrensil contro un coglione che si chiedeva forte perché erano i cinque a tenermi si si se adesso lo vedo lo faccio finire in fase business business questo giro fa due scale business business solo va con l'audio a 6 business business carpe e folpi sul caffè business business ne piccio una due e una tre ma chi ha fatto aria guardate ma chi ha fatto aria guardate ma chi ha fatto aria guardate e io parare a finestra fanno il tuo guato del caderno mi trovo del caderno va bene dai teniamo uno stesso allora è pronto il tè? si ragioniere no no lascia lo servo io no lo servo io no no lo servo io ma lei sta scherzando ragioniere lo porto io ma no guardi lo porto io un buon padrone di casa deve sapersi arrangiare servire all'occorrenza un minimo di galateo lei non mi poro per i coglioni